Questo video è offerto da Mister Giampaolo, oggi una partita tosta, una partita molto complicata anche perché il città di Melilli proveniva da zero risultati utili, quindi un pareggio poi agguantato alla fine, insomma un punto molto meritato. Sì, diciamo che è il risultato giusto per quello che si è visto in campo, di fronte c'erano due squadre che non stanno vivendo un bellissimo momento di campionato e quindi c'è tanto nervosismo, ma non nervosismo tra le squadre, all'interno dei blocchi e quindi c'è quella mancanza di fiducia sia in noi che in loro che ha compromesso un pochino le bellezze della giocata tecnica e quindi fondamentalmente il risultato è giusto. Noi eravamo venuti qui per vincere, l'abbiamo preparata bene, abbiamo trovato un Melilli agguerrito, un Melilli che in una settimana di coach Rinaldi ha tirato fuori le proprie prerogative. Si aspettava qualcosa di più dai suoi ragazzi? Noi siamo venuti qui per vincere perché noi andiamo sempre per vincere, perché crediamo nel nostro potenziale, sapevo però che dall'altra parte il Melilli questa settimana aveva lavorato diversamente e che non sarebbe stato facile e così è stato. L'importante è che il punto non è in pieno una soddisfazione, però è qualcosa che smuove anche di poco la classifica. No, no, certamente, non perdere è sempre una cosa su cui lavorare, però è chiaro che dispiace non essere riusciti a giocare con la qualità che dovremmo avere. L'importante è che il punto non è in pieno una soddisfazione, ma non è in pieno una soddisfazione, ma non è in pieno una soddisfazione, ma non è in pieno una soddisfazione.